il primo pezzo dovrebbe essere il peggio in assoluto croste 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 vediamo se a forza di passarlo hanno smussato un po se sempre in perdita come una volta destra croce fisso croce se fissino croste fammi tutte cose partivano di su avevano fatto un pezzettino in più sembrava anche bellino anche un cazzo bastarda porca bastarda forse comincia qui ma l'inclinazione è giusta della tele ok non comincia anche questo pezzo ma lo riordavo ma è mancappuccita è forse più largo rispetto a prima quindi qui le traiettorie sono tutte alla sperandiva ne scegli una e speri che va bene ok è diventato flow rispetto a prima ci mancano gli scampanacci ci dann 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 è Sì 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 Ha scappato il pedale Sì 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 Sì